buonasera benvenuti a questa nuova puntata di hotpot secret qui su rete 55 compagnia del vostro bellissimo jason c'è anche the hobbit buonasera a tutti bentornati ti vedo felicissimo questa sera cosa è successo no sono contento sono contento come mai ti è capitato qualcosa di bello nella tua vita di merda no 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 assolutamente sono contento per la puntata che si presenterà questa sera immagino immagino non sai non sei l'unico che tu pensa che ho preso del coglione poco prima di venire qua da mia moglie quindi fate voi ma ormai il tuo soprannome si sono abituato ormai tutti così sì sì allora hobbit questa sera come abbiamo annunciato nel nostro promo abbiamo con noi un ospite veramente eccezionale in realtà come io dico sempre sono in tre non è una sola e soprattutto un'amica di hotpot da anni vuoi annunciarla the hobbit ma me la fai annunciare a me ti do l'onore così a tua moglie quando torni a casa da papà papà quattro mappine via quattro mi mette in castigo in punizione nell'angolo vai presenta la the hobbit è con noi medi joe la vado a prende la vado a prende a te l'onore eccola qui eccola qui adesso io la guardo intensamente negli occhi ciao buonasera medi un po più in su gli occhi sono un po più guardati un po troppo in basso vieni medi è un piacere averti con noi anche per me come sempre tra l'altro hobbit non so se ci hai fatto caso le tette sono arrivate in studio un quarto d'ora prima di lei è per quello che ero contento jason è per quello è quello la tua felicità subito all'inizio è una persona che parte così a razzo con la felicità poi dopo pensa gesù che ho portato un paio di occhiali che sono meglio no è per vederle completamente perché sono occhiali grossi allora riesce a vederle meglio immagino che la moglie ti abbia dato del coglione per questo bravissima allora medi come stai buonasera tutto bene tutto bene sei contenta di ritrovarci come sempre ormai siamo amici da anni ormai è la terza volta credo quarta terza quarta guarda come se lo ricorda bene lui confonde perché fa per due ti ricordi l'ora il giorno tutto ti ricordi dovrei andare a guardare sul telefono però mi saluto alla moglie è tutto segnato no è criptato è tutto criptato password impronta adesso c'è il lucchetto si mette il lucchetto adesso sì sì ah ma lo sai già lui mette la pelata sai che prima una volta c'era il dito lui fa quella adesso siccome è il riconoscimento facciale io non ho usato la faccia ma ho usato altro ecco ecco madonna ciò che non usa mia moglie l'ho usato per come password ecco allora medi bentornata tra noi grazie ormai se famosissima conosciutissima in tutto il mondo però magari c'è qualcuno a rete 55 in quella di varese che ancora non ti conosce per bene vuoi raccontarci un po chi è medi gioco volentieri sicuramente anzi penso più di metà varese visto che non ci sono quasi mai da queste parti gli uomini di varese li conoscono tutti però conferma allora io mi chiamo ma di giù in arte il mio nome vero e madalina per quindi accorciato e madi ho compiuto da pochissimo 29 anni e faccio la content creator da quando iniziata la pandemia per sbaglio ci tengo a precisare per sbaglio per colpa di mia sorella di 14 anni che mi disse che noi ringraziamo tutti quanti come si chiama tua sorella bravissima sarah numero 1 che mi disse dai facciamo un tik tok e siamo al mare io ho dovuto anche scaricare l'applicazione che non sapevo neanche cosa fosse tik tok e andò subito virale il primo subito il primo perché beh a parte gli occhi ma eri brava a ballare ero mamma mia squisita io non so se voi avete il primo video del del mio balletto si l'abbiamo vuoi già passare lo facciamo vedere già il primo balletto così la gente si fa un'idea del perché sei andata subito virale e sei diventata subito che poi non sono diventata virale qua in italia eccolo qua eccolo qua si vede dalle movenze che balli veramente bene ed è hobbit si e tra l'altro io ti ci vedo a fare questo balletto a lui a lui a lui a lui si ma lo facciamo assieme facciamolo non mi devi insegnare i passi ci penso io vai 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 facciamo sto balletto 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 vediamo in modalità balletto e divento famoso anch'io rifacciamolo rivedere perché anch'io non me lo ricordo sono passati vediamo se diventa virale di hobbit allora la canzone non ce l'abbiamo ce l'immaginiamo immagini ma che canzone esatto vai vai ecco guarda il balletto destro sinistro occhiali non ce l'abbiamo e poi dai hobbit muovi allora è semplicissimo aspetta io ce li ho gli occhiali medi volete metterli vai mettili tu mettili tu dai veloce veloce vai 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 devi farli scendere al momento giusto però eh vai quindi vediamo se sei capace ma non scende allora mettilo al limite che è quello che ho fatto anch'io nel video mi ricordo dai quindi destra destra un po di bacino muovi il bacino devi muoverti sinistra mamma mia giro come un cancello elettrico occhiali sì bravo bravo lo scemo del villaggio è qui con noi vabbè sarà per la prossima volta e poi scenditi bravo le hobbit adesso ho capito perché anche tua moglie ti dà del coglione io sono una bacchetta di legno queste sono le basi però mi stai oscurando la mia bellezza cioè tu scusa ma tu no torna al tuo posto perché cioè io adesso non so che adesso capisco perché tua moglie ti dà del coglione ti vuole bene per ridarti così è del coglione eh sì quindi sei andata a virale grazie a tua sorella sei diventata conosciutissima subito prima su tiktok poi su instagram poi mi sono spostata su twitch e per ultimo da un paio d'anni su olifaz ma il passo alla fine proprio ci andiamo un po' alla volta tu sei andata a virale con questo tiktok ma era sul tuo profilo o sul mio però in america non in italia e io l'avevo fatto a senigallia nelle marche che soltamente vado lì in vacanza ma in vacanza lì ma dopo hai continuato a fare video di quel genere con balletti sì ma perché lo prendevo per scherzo ho detto tanto cosa c'è cosa vuoi che mai cosa succede poi è successo prima le cose brutte cioè i commenti negativi le persone cioè non ero abituata a quello io facevo la cameriera l'ho fatto per dieci anni quindi non ero abituato a farmi sentire cioè dire commenti cose così assolutamente niente c'è stato proprio un pugno in faccia e poi ci sono state anche le cose belle perché bisogna anche apprezzare le persone che invece ti apprezzano ecco quindi solitamente si guarda solo il brutto no tipo di hater però io ho preferito guardare l'altra parte cioè tu hai preferito comunque guardare il lato positivo perché comunque sì perché era comunque maggiore di quello negativo perché con tante persone che ti attaccano comunque continuare una cosa non deve essere facile eh no ci vuole tanto coraggio penso anche perché sotto ogni video c'era eh ma c'è la pancia ma c'è la cellulite come sei cicciona io da lì non è che sono dimagrito ho cambiato io sono sempre uguale identica non mi trucco massimo che mi permetto ogni tanto sono le unghie e tanti non hanno apprezzata sta cosa della naturalezza anche perché sono tutta naturale è vero è vero poi tra l'altro sei anche una bravissima persona quindi grazie cioè ciò non toglie che dopo tutto questo successo che hai avuto sei rimasta la stessa persona che eri un tempo diciamo no quali sono le cose che ti hanno cambiato di più però che sono non so magari il fatto di essere riconosciuta in giro queste cose qua ti danno fastidio perché magari ti fa piacere anzi quando mi fermano chiedo io ma vuoi berti un caffè già che siamo qua e la maggior parte mi dicono di no non so perché magari inquieto un po' di più l'ho aperto io te l'ho chiesto io è ovvio che offro io però magari si sentono non so a disagio in imbarazzo cazzo noi volevamo offrirgli il caffè prima in due non avevamo dietro la moneta sì ho dovuto dare 40 centesimi perché il caffè ha dovuto pagarselo lei e vabbè ora la prossima volta quindi vedi che offro io stai a guardare queste piccolezze e quindi tu hai avuto questo successo inaspettato hai mollato il lavoro subito com'è che è nata? no 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 perché io non ci ho creduto finché non ho aperto gli fans cioè io con instagram tiktok non guadagnavo un centesimo a zero non si guadagna con instagram cioè io avevo un milione di follower e guadagnavo zero però dopo hai fatto perché nessuna azienda ti vuole se hai quel tipo di profilo cioè col mio di col te vabbè vendevi reggiseni non lo so sponsorizzavi reggiseni no perché poi subito dopo quando ho aperto gli fans quando ti apri gli fans sei etichettato nessuna azienda vuole lavorare con te italiana o europea perché hai aperto però prima non c'è stata nessuna proposta di qualche azienda no o se lo volevano fare lo volevano fare gratis del tipo io ti do il reggiseno tu me lo sponsorizzi gratis e via così però mi sentivo anche sfruttata quindi piuttosto non lo facevo brava giusto andavo mi compravo il reggiseno e basta senza sponsorizzarlo quello che costa il reggiseno esatto costa un botto poi i miei vabbè i tuoi li devi fare su misura no 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 io li prendo dove le prendo nelle vecchiettine infatti io quando vado a prendere i miei reggiseni vado in ortopedia cioè proprio sai tipo la farmacia dei vecchietti e io vado lì a prenderli infatti sono sempre l'unica giovane perché lì si trovano per la schiena ma a proposito della schiena cioè comunque portarti dietro non vogliamo dire la tua taglia perché sono cose tue la vogliamo dire? no così ci giocano su indovinare chi indovinate che tagliaporta la nostra medicina no no sono aperte le scommesse sono aperte le scommesse il vincitore avrà un caffè ma l'hai mai svelato questa cosa? cioè può essere che magari qualcuno che ti segue lo sappia già? posso fare il nome di un'altra trasmissione? si può? ah 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 va bene forse l'ho detto alle iene forse ah sì sì tra l'altro sono comparsa anch'io tra che top abbonati non ne parliamo più di questa vicenda ma che? non ti ricordi che c'ero io nella foto che ero oscurato ovviamente ero oscurato sì ah perché si è abbonato il mio OnlyFans? ma te l'ho già dato gratis no non sono abbonato su eh? non lo dicevi te l'avrei dato gratis senza abbonarti ah vedi che non potevi dire eh che tu divano io ve ne sapevo ah finalmente io posso dire di avere l'abbonamento premium al profilo OnlyFans di me di Joe gratis scusa e io chi sono? e tu no tu sei un coglione allora tu prima lo chiediamo a tua moglie a tua moglie se lei dice di sì te lo do eh dopo la chiamo ok oh però qua testimoni eh tutti gli ascoltatori hanno sentito assolutamente allora no ma Gesù aspetta assolutamente amore amore ha detto che se tu dici di sì me la dà mi dà il profilo eh sì che a parte i scherzi sai che ho un sacco di coppie sul mio profilo di OnlyFans che ti seguono? sì di coppie proprio marito e moglie tante persone marito e moglie che quindi mi guardano i contenuti insieme che direi che è la cosa più onesta di tutte senza fare di nascosto così non mi vede la moglie non mi vede no ma io non le faccio di nascosto mia moglie lo sa che io sono abbonato a tutti i siti porni e a tutti i siti di tutto 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 sì è vero è vero posso confermare ma scusa ma perché non lo fate insieme? vi aiuta a crescere anche nella vostra relazione sessuale? non è che lo facciamo insieme cioè non lo facciamo no loro no hanno questo rapporto ok ok stanno insieme ma non è no no non vuole non vuole beh un consiglio agli altri se volete crescere un po' di più nella coppia guardateli insieme aiuta aiuta vabbè prima di arrivare ad OnlyFan esatto torniamo indietro torniamo un po' indietro perché prima di arrivare ad OnlyFan a tutto il successo che hai avuto sei passata anche da Twitch quindi da sì Twitch è stato il mio diciamo il mio pezzo forte quello che ho la piattaforma che ho preferito di più in assoluto perché lì portavo videogame cioè giocavi ai videogiochi sì Call of Duty Fortnite Horror un po' di tutto ma sei sempre stata una partita di videogiochi sì 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 anzi ho anche avuto questo non l'ho mai detto a nessuno almeno non così ho avuto anche un problema con un gioco chissà GTRP ho avuto un problema di dipendenza con quello ah sì ho rischiato il divorzio sì per il gioco sì cioè fa ridere ma è vero esiste la dipendenza di videogiochi sì aspetta amore hai capito? no perché io mi chiedo ma non puoi parlare ma puoi parlare alla televisione con tua moglie ma non potete parlare a casa come fanno tutti quanti no perché a casa non mi ascolta almeno se adesso ah per la televisione quindi tu glielo stai dicendo adesso fra dieci giorni lo sai c'è un altro fattore c'è un altro fattore che tu non lo sai perché se non glielo dico io cioè io glielo dico così è indiretto il messaggio però magari glielo dice l'amica l'altra amica e questo e quello e l'altro il messaggio le arriva sono sicuro che arriva quindi tu dicendolo in televisione qualcuno ti può aiutare dici no? no non è che aiuta che gli dice guarda che è così guarda che è un coglione comunque è veramente così è una dipendenza ma tu sei arrivata a farla streamer perché? cioè come è nato quel passo? allora quindi io sono partita da TikTok balletti del cavolo poi sapevi che si guadagnava comunque su Twitch no non avevo ancora scoperto Twitch mi sono spostata su Instagram però su Instagram puoi fare al massimo foto video non c'erano ancora neanche i reel quindi figurati però ho detto io vabbè lì faccio i balletti lì faccio le foto però io ho ancora tante cose da far vedere come faccio e allora che tanto tutti ti guardano le tette alla fine della fiera eh quello per attirare poi c'è chi invece rimane per il dopo altrimenti non sarei qua eh sì tantissimi cosa ti dicevano su Twitch? quindi ho aperto Twitch quindi videocamera mia piccola in basso così e poi c'è il videogioco ok però prima facevo magari un po' di just chatting che vuol dire che la telecamera è bella grande e mi chiedevano qualsiasi cosa possibile come parliamo io e te di tutta la tua vita? sì da quando sono nata fino adesso ah quindi esistono persone che ti seguono che non sono pervertiti? no la maggior parte non sono pervertiti bella sta cosa perché com'è inizialmente ovviamente tu quando cammini per strada no? e vedi una bella ragazza non è che ti attira il suo carattere no io dico che figa esatto quindi è quello che ti attira perché tu sei un pervertito? poi quando rimani a vederla sta a te a vedere se vuoi andare oltre o meno tanto il fisico ce l'hai ma c'è anche l'opportunità di vedere di più se ti interessa bella questa cosa qua sì e tu ci non hai permesso di fare questa cosa ma tu nel dopo avresti conosciuto anche persone al di fuori? ho conosciuto un sacco di persone, di streamer ho fatto amicizia cioè ha aiutato veramente tanto poi mi ha anche aperta proprio a me io prima ero molto chiusa, timida non sarei mai uscita così ricordiamo che nel frattempo eri sposata ero sposata io mi sono sposata cioè ci siamo conosciute a 17 anni tutte e due e siamo stati insieme fino ai 27 quindi più di 10 anni 10 anni cioè il mio primo ragazzo e adesso sono in divorzio quindi non ne posso parlare più di tanto sì no 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 non ne parliamo era giusto per collegare al periodo esatto sì 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 esatto per quello quando ho iniziato a giocare a GTRP iniziavo magari la live alle 6 di pomeriggio e finivo a mezzogiorno il giorno dopo continuo non mangiavo non bevevo ovviamente lui non lo calcolavo lui poverino continuava a dire guarda che stai esagerando sei andato avanti per mesi nel frattempo sei iscritta al tuo profilo di only fan no lui mi aiutava all'epoca con tutte le cose cioè mi sosteneva per quanto riguarda il lavoro lui mi ha aiutato tanto anche perché cioè poteva dire guarda non sono d'accordo siamo marito e moglie non lo puoi fare io magari per suo rispetto non l'avrei fatto però non mi ha mai detto no non mi piace non farlo ma com'è nato l'accordo cioè nel senso quando tu gli hai proposto sta roba qua di only fan per dire eh ma only fans è stato un bel po' dopo Twitch ah ok ho avuto una specie di di buio e ho chiuso tutti i profili tutti quanti ah proprio tutto sì prima di avere only fans perché mi girava le scatole vedere sti cazzo dico si possono dire sì 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 si cazzo di commenti negativi intanto non ci guadagniamo neanche niente capito anzi quasi sembrava che perdevo di autostima e allora i miei fan più accaniti quelli che vanno oltre il fisico mi dicono guarda che puoi pubblicare le stesse identiche cose che io pubblicavo ho fatto io in costume su only fans le stesse togli le tute da instagram le pubblichi su only fans e vedi che ci guadagni e almeno per insultarti pagano io ci ho pensato ho detto ma sai che provo quasi quasi provo al massimo se fa male richiudo tutto e ciao torno alla vita di prima e c'è gente che paga per insultarti no no e no anche perché saresti veramente stupido pagare 35 dollari per entrare e insultarmi per gli soldi e ti ballano e non puoi più rientrare 35 dollari e l'abbonamento mensile al mese buono per un abbonamento mensile ho risparmiato 35 dollari perché ormai l'ha detto ricordatevelo lo so che mi stai guardando tu la telecamera l'ha detto gratis a Jason e l'ha detto e forse a Hobbit tu devi vedere tua moglie io ci provo io la butto lì io quindi aprì il mio primo profilo di Olli e pubblicavo solo costume da bagno solo costume da bagno e mi sono spinta all'intimo però non era un vedo non vedo era non vedo quando ho visto che dopo il primo mese di costume da bagno quindi io ho tolto tutto da Instagram e ho spostato su OlliFans quando il primo mese ho visto 25.000 euro ho detto vabbè son finti non sono mica veri questi soldi figurati quando ho visto arrivare nel conto corrente mi sono spaventata così tanto non solo io ma anche il mio conto che la banca a San Paolo mi ha chiamata un giorno dopo mi ha detto scusi signorina signora abbiamo qualche domanda per lei perché pensiamo che faccia riciclaggio di denaro sporco sono dovuta andare in banca a parlare con il direttore mi ha fatto vedere i video no ma non sapevo neanche io come spiegarli cioè come dirgli che ho fatto un costume da bagno e alla fine si chiamano promozioni direttori si chiamano promozioni direttore c'è una cosa da dire da sgridare le banche italiane adesso cioè adesso da sempre chi ha OlliFans la maggior parte delle banche non ti accetta non ti apre il conto proprio l'ho già sentita questa non sei la prima è un po' fuori di testa se ci pensi ma questa cosa succede solo in Italia sì sì come sempre ovvio qual è il senso poi che comunque porti i soldi perché loro dicono che eticamente non sono soldi che loro condividono e te li dovevi tenere sparsi e no dopo tre mesi infatti sono andata ho cambiato residenza tanto se ormai vai a Dubai vai prima cosa le ho chiesto hai finito di girare il mondo la sua risposta è stata no vabbè io gli ho detto brava fai bene ancora no per ora no ecco ma il tuo rapporto con gli haters noi abbiamo un videoclip per farvi vedere Maddy in tutta la sua bellezza che tra l'altro ripetiamo voi la vedete però dal vivo è una bravissima persona molto simpatica perché nel video invece sono cattiva molto di compagnia e che tette che c'ha mamma mia no però comunque cosa ti dicono gli haters quando vedono questi video qui per dire allora i soliti commenti riprendiamo posso fare anche la vocina che a me piace tanto grazie ma senza quelle tette non avresti fatto mai niente nella tua vita questo è il primo classico secondo posso dire anche gli insulti che mi dicono certo certo per far capire alle persone che non si dicono queste cose e tu sei io lo so che tu sei una rumina badante che ci viene a rubare i mariti in Italia io vivo in Svizzera però fa niente questi sono i primi i top 2 e poi ci sono gli altri che dicono le tette sono finte però vi assicuro che non lo sono cioè ho fatto anche i raggi volevo vedere se avessi fatto sì c'ho i raggi a casa nel caso faccio la storia sai che ce l'hanno detto anche dei nostri amici no ma secondo noi le tette di Medi non sono bene eh Copit puoi testare se sono bene o no allora secondo me se lei vuole io le farei testare a sua moglie così per sicurezza poi lei te lo dirà io ci ho provato ti avevo promesso che l'avrei fatto per te no ma ci avevamo ci avevamo già provato un tempo fa se non ti ricordi quando eravamo in un locale a fare hot pot tra l'altro quella foto delle vostre testate così che sembravano le mie ciliegine ma era fantastica ce l'abbiamo ancora ce l'abbiamo però bisogna farla in una qualità video migliore sì però non ho fatto i capelli quindi adesso verrebbero delle tette pelose quindi direi che non è il caso comunque stavo dicendo quella volta lei aveva detto tua moglie può toccare e tu no è vero è vero l'ho detto anche adesso vedi chi sono coerente vedi io ci ho provato a fargli cambiare idea però niente mi è andata male anche stavola metti una parrucca la prossima voce ma non c'è assomiglio per lo stesso a mia moglie non c'è assomiglio quindi è inutile anche se mette la parrucca vabbè e quindi con il rapporto con gli hater ma in realtà è buono tu te ne freghi sì altamente tantissimo ti danno più quando non me ne frego c'è comunque la psicologa che mi aiuta nel caso consiglio vivamente a tutti che fa solo bene ma c'è un consiglio che vuoi dare a chi magari invece degli haters ne soffre cioè nel senso prendi per esempio lui che gli danno sempre del coglione lui a casa ci sta male poi ma dalla moglie o da no dalla moglie in primis poi in generale chiunque lo vede ciao coglione sempre così vedi in questi casi la psicologa ti aiuta tantissimo ti fa un salto di autostima veramente alto cioè non è per far pubblicità delle psicologi però è vero funziona funziona tanto ti ha aiutato però la maggior parte lo devi avere dentro cioè devi essere già tu così no io sono a fianco che te ne freghi capito che te ne sbatti perché almeno il mio pensiero è se tu mi critichi cioè se mi critichi va bene però se tu mi dici una cattiveria io a casa ho comunque da mangiare da dormire vado in vacanza lo stesso io non ti conosco quindi perché la tua parola dovrebbe ferirmi no io vivo lo stesso che è diverso beh anche ma sei mai stata anche minacciata perché comunque sai ci sono persone che sui social addirittura mi sono arrivata anche lettere a casa senza francobollo quindi vuol dire che sono venuti di persona a metterle vuol dire che sapevano addirittura dove abiti sì che io di solito non faccio mai le storie in casa o cose così però era nella casa vecchia quando abitavo a Cassano Maniago ah ok ma come ti comporti in questi casi e beh la denuncia per sicurezza non si sa mai e adesso ho optato per ho preso un avvocato ve lo dico così evitate commenti cattivi e brutti ve lo dico per il vostro bene non commentate almeno non con i profili veri ma con quelli fake perché sono tutti denunciabili e infatti ne ho fatti non sei la prima che fa questa cosa giustamente perché dopo un po' uno si stupita perché se tu mi fai una critica del tipo quel balletto non si fa così dovresti farlo meglio correggere a me sta bene ma se tu mi vieni a dare della brutta badante di merda che mi rubi mio marito ma perché voi mi rubi mio marito perché? non lo so perché la maggior parte sono donne non sono uomini che è peggio secondo me trovami un uomo coglione che ti viene a insultare l'invidia no? cioè può essere magari il fatto che comunque sei una bella ragazza che ha avuto successo tutte queste cose qua le donne possono dar pastiglio se una cosa non ti piace bloccami scrolla secondo me sono tutte donne che non hanno zizze vero? sì sono tettapiattiste loro basta voi tettapiattisti diciamo no alle tettapiattiste le donne devono avere le zizze giusto? no no però ci piacciono anche te con le tette allora ci piacciono tutte se io dovessi scegliere una donna io la sceglierei senza tette a me piacciono quelle senza tette vabbè dai ognuna ha la sua bellezza però vedi dipende dai gusti si dice sempre che magari chi ha le tette un po' più piccole è più lineare però anche le tette sono belle i gusti sono ognuno ha i gusti io invece dico a me piace la donna appunto basta che ha la patata basta che respira basta che respira lui per quello lui è uno semplice Hobbit che si accontenta quindi a casa c'è qualcuno che respiri non ascolta c'è tua moglie che ascolta? eh sì niente 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 come non detto come non detto torniamo a noi e Medi invece dopo aver passato con gli haters sei passata da Twitch sei passata a OnlyFans ho chiuso quindi tutti i profili ma c'è stato qualcuno che ti ha consigliato? sì i miei fans ah i tuoi fan sì sì io non ho aperto di testa mia anche perché addirittura ero contro OnlyFans quindi ho aperto OnlyFans e mi ha anche aiutata stranamente molto molto personalmente cioè sessualmente io prima ero molto chiusa si possono parlare di queste cose? dopo faremo qualche domanda un po' più più piccante più piccante abbiamo Medi eh sì prima ero veramente veramente chiusa cioè non facevo niente non mi spingevo andavo in giro con i maglioni fino a qua perché ero insicura invece grazie a OnlyFans mi sono aperta sai quando ti apri proprio come il vaso di Pandora mentalmente che non vivi più nella tua ignoranza nel bigottismo è stato un altro mondo sì è stato come rinascere veramente cioè io adoro i miei fans liamo tutti dal primo all'ultimo soprattutto quelli che pagano giustamente perché sono quelli che sono non perché pagano ma perché non vengono lì a insultarti ma anzi sono carinissimi vengono tutte le mattine buongiorno cosa farai oggi cioè io la maggior parte so dove abitano so chi è la moglie so il lavoro so tutto perché è un po' come parlare con un'amica e poi c'è l'altro lato invece sessuale che ti spingi dopo negativo almeno personalmente per me non c'è niente allora Medi noi dobbiamo mandare la pubblicità torniamo tra poco con Medi Joe qui a Hot Pot Secret bentornati qui a Hot Pot Secret su Rete55 in compagnia della nostra bellissima Medi Joe ciao Vinci allora Medi hai parlato di OnlyFan quindi ti voglio chiedere un po' come funziona il mondo e come funziona il mondo delle collaborazioni perché noi ti vediamo spesso con altre ragazze che hanno un profilo sulla piattaforma sì non ho mai collaborato con ragazzi solo con ragazze e insomma da un lato è bello perché conosci nuove persone fai nuovi contenuti per i tuoi fans da un'altra parte è meno bello perché molto spesso trovi persone che sono lì più che altro per approfittarsi della tua bontà o dei tuoi numeri o di quanto guadagni purtroppo si incontrano queste persone e poi purtroppo anche per sbaglio si diventano magari anche amici e lo scopri un po' dopo che hai fatto una cazzata ah quindi tu quando ti presenti con una persona comunque cioè non sai chi hai di fronte cioè vai lì fai la collaborazione per quanto ne sai potrebbe essere anche un serial killer però io mi formo bene cioè non è che vado così a caso capito Hobbit tu che vai così a caso al buio ti butti nel buio no io vado a casa a casa diverso io non è che vado a casa io vado a casa proprio quali sono i tuoi progetti invece futuri futuri visto che comunque ormai ne hai parlato in diversi luoghi diciamo hai un buon guadagno hai avuto un buon guadagno in questi anni con la piattaforma quindi comunque hai dei sogni nel cassetto certo quali sono i tuoi sogni allora in teoria il tutto doveva finire più o meno quest'anno ah avevi sì poi c'è stato di mezzo il divorzio che non era previsto quindi quindi sarà ancora per qualche qualche anno per qualche anno ci sarò ancora dopodiché chiuderò tutto spoiler mi dispiace chiuderò tutto ho manco un maledetto che mi dava il profilo grazie per qualche anno ci sono aspetta magari abbiamo ancora una decina d'anni che riusciamo no no che dici almeno una decina di giorni no no dieci no massimo un paio d'anni spero massimo se si può anche prima Dio vuole si chiude tutto e si torna come si era prima quindi tornerai a fare la cameriera magari del mio ristorante stavolta eh sì però sì tornerò a fare la mia vita normale perché mi manca tantissimo mi manca tanto cosa è che ti manca della tua vita ma le cose banali anche solo avere sapere che ok da questo orario a questo orario io devo lavorare mi presento in quel posto faccio le mie cose poi sono libera e non devo pensare a niente questo lavoro non è così devi pensare costantemente a tutto come mi è successo poi sembra attaccata ai telefoni esatto io ho dovuto addirittura obbligarmi a prendermi un giorno di pausa ho visto ieri non mi ha risposto giustamente ma fai bene non rispondo neanche su whatsapp eh ma è per autofermarmi se no questa cosa va all'infinito e impazzisci comunque è una cosa bella che riesci comunque ad essere ferma nel tuo giorno antisocial sono passati 4 anni per 4 anni io tutti i lunedì non ho mai lavorato e adesso da una settimana ho cambiato la domenica giusto per cambiare un po' vabbè dai la domenica è più rilassante quindi si chiude tutto con quello che sia da parte sperando che ci sia qualcosa si apre un qualcosa di mio di piccolo che sia un ristorante piuttosto che una libreria a me piacciono molto i libri qualsiasi cosa e si torna alla vita normale di prima cioè ma di giorno non è mai esistita ma c'è il progetto di mettere su famiglia magari in futuro no 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 quindi quello che è stato quello che è stato di OliFan anche se rimane non è un problema ah no ma anche se mi dovessi fare una famiglia cioè sono cosciente che quello rimarrà per sempre anzi chiunque pensa di non so magari le ragazze di 18 anni che dice adesso vado su OliFans faccio i 18 anni faccio un botto di soldi poi mi cancello no non puoi cancellare rimangono rimangono per sempre ciò che è in rete ciò che è in rete è in rete purtroppo e quindi deve essere cosciente per quello io non consiglio a nessuno sotto una certa soglia di maturità non di età di aprirsi OliFans perché poi magari molto probabilmente se ne pentono ma tu come la vivi questa forma nel senso tu sei stata comunque un'icona di OliFan perché comunque sei stata tra le prime ad avere questo successo ecco come lo vivi il fatto che tanti ragazzini al giorno d'oggi basta un po' di seguito che hanno su Instagram sui vari social e vanno subito dirette ad aprirsi un profilo OliFan non lo condivido è quello che dicevo poco fa è una cosa abbastanza sbagliata perché penso che il loro diciamo la loro motivazione siano i soldi per me non sono stati solo i soldi perché io avevo già benissimo quei miei 800 euro al mese per me è stato un scoprire anche me stessa sessualmente nel mio matrimonio cioè ci sono state tante cose io quando l'ho aperto avevo già 27 anni 27 circa quindi io avevo già fatto una vita diciamo normale tra parentesi però le ragazzine che escono dal liceo da scuola vanno subito su LiFan secondo me non è sbagliato di più fanno in tempo ad avere 10 follower che sono già inizi come me con un costume da bagno un intimo e magari fra anni arrivi a fare cose spinte va bene il problema è che loro non avendo una guida qualcuno si buttano nel porno subito e quindi vuol dire che la carriera finisce in qualche mese non la vedi un po' come me che nel senso che tante iniziano con la scusa di faccio vedere solo i piedi ma una volta che sei dentro comunque una volta che sei dentro o ti metti dei limiti perché vedendo il guadagno arrivi sempre a spingerti un po' più in là per forza cioè se io vengo e mi iscrivo sul TuoliFans tu mi fai vedere i piedi ok ci sto un mese due poi io però voglio vedere anche le caviglie tu mi fai vedere anche le caviglie per guadagnare di più no però io voglio vedere anche le ginocchia quindi per soddisfare i tuoi fan devi sempre dare di più ti è successo? mi è successo mi ricordo quando non facevo il Topless ancora quindi era un vedo non vedo c'era questo ragazzo un po' pazzo secondo me che lui voleva essere il primo a vedere sto Topless non ero io non ero io no per la cifra che mi ha dato non penso e mi disse anche perché parlava in inglese e mi disse allora non mi vedi assolutamente dai ti prego io gli dicevo guarda non è questione di soldi è che non mi sento pronta solo per quello allora mi fece un'offerta di 10.000 euro per una foto sola di Topless e gli dissi di no perché semplicemente non me la sentivo non ero lì per fare più soldi a parte che bastavano già quelli che c'erano e quindi è così ho lì o ti spingi sempre di più senza limiti quindi puoi durare anche per anni e anni oppure se ti metti dei paletti come ho messo io sai che finirà ma ti sei mai pentita? no mai? no ascolta digli che per 9.999 euro lo faccio io il Topless per lui ecco ma ci dici un po' le richieste più strane che ti hanno mai fatto sui vari social la settimana scorsa beh sui social non ti possono fare varie cose solo su Oli ci sono le richieste strane anche perché lì si sentono liberi di fare le richieste più strane possibili da quelle legali perché tanto pagano da quelle legali a quelle illegali perché purtroppo ci sono anche persone cosa ti chiedono illegali? disturbate che non so neanche se si possono dire qua non si possono dire? sono cose brutte che addirittura la piattaforma ti balla in automatico se provi anche solo a scriverle giustamente vabbè giusto e settimana scorsa ero in Turchia e uno mi ha chiesto se gli facevo un contenuto in un vestito da sposa io adesso dove vado a prendere un vestito da sposa? anche se fosse anche che glielo fai quanto gli chiedi scusami e deve pagare l'affitto del vestito e il contenuto in base ai minuti che cosa vuole però il vestito da sposa non so non ti ci vedi cioè no mi sono vista già una volta basta evanza è vero va bene così ti porta a brutti ricordi ma no dai no a ricordi del passato esatto diciamo la più giusta cosa invece ancora più strana fammi pensare ah il tiralatte il tiralatte? tiralatte allora io non sono mai stata incinta non so come si usano quei affari non lo so beh però permettimi con un tiralatte penso che almeno almeno 3-4 anni buoni lì ne abbiamo eh ma il problema che io gli disse a questo qua allora io non so come funziona perché non ho avuto molti uomini in vita mia ne ho avuti due ma non so se il latte io ce l'ho o ce l'ho solo quando sono incinta c'è proprio ignoranza assoluta e lui mi disse è vero non ce l'hai però ci sono delle pastiglie che se tu le prendi ti viene in automatico il latte ah quindi dovevi prendere le pastiglie per fare un video dovevo prendere le pastiglie per farti il contenuto per mi fa sì e ti giro anche ti mando anche il tiralatte c'era un tiralatte di 1000 euro ah una roba super ma lo pagava lui oppure lui certo ah caspita scusa quindi tu mi mandi questo macchinario le pastiglie quindi io mi devo fidare di te a prendere le pastiglie che non so che cosa fanno farti il video e mi dice ah però guarda che fa tanto male ah cioè mi vogliava proprio farlo capito ho detto guarda con tutto l'amore che provo per te grazie del sostegno ma no ma ce n'è di richieste strane peggio del dark web sì sì ce ne sono però i miei sono abbastanza bravi sono tra no vabbè ma perché dopo alla fine ti conoscono e vedono che tipo di persona sei no perché sanno che da me c'è il no c'è il no no esatto brava fai bene a rifiutare certe richieste che fa il no 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 giuro io lo so che sei stato è lui è lui è lui lo so che sei stato vabbè ma noi noi vogliamo visto che siamo un po' bastardi noi dentro vogliamo sapere come è andata a finire poi con quel prete che avevi parlato a le iene il don il don il don mi sa che non ha visto le iene perché ha continuato a scrivermi ma magari guarda la rete 55 ma magari è un finto che si no no c'è il nome della chiesa è tutto cioè posso andare a trovarlo volendo in montagna e vabbè io però avendo un po' di fede in me dopo un po' ho smesso di risponderle proprio brava giusto perché mi sentivo un po' in colpa verso il signore non verso di lui cambiamo discorso dai visto che abbiamo ancora poco tempo allora sei una ragazza che gli piace viaggiare negli ultimi anni hai viaggiato il mondo tantissimo e abbiamo visto con molto piacere che ti stai dando alla beneficenza in realtà l'ho sempre fatto l'ho sempre fatto però adesso proprio in modo adesso che posso sì sono andata prima ho finanziato da qua il progetto che adesso stiamo vedendo il video esatto il progetto in Africa in Togo questo progetto praticamente abbiamo preso un pezzo di abbiamo preso perché io attraverso l'associazione ovviamente non potevo farlo da sola abbiamo preso questo pezzo di terreno dove i genitori possono coltivare il cibo per la mensa scolastica così li possono mandare a scuola capito quindi è comunque un circolo che non hanno bisogno di una volta che hai fatto quello loro se la cavano da soli bello sì e sono andata adesso poco fa due settimane fa circa sì sono andata a inaugurare la mensa e ho visto anche il terreno è stato quindi tutto a spese tue sì 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 perché non è che come mai hai scelto io volevo andare lì e vedere dove andava ogni centesimo grande di essere sicura e adesso ne ho un altro di progetto per un canile in Italia ma come mai hai scelto proprio il Togo c'è un motivo particolare perché Togo ci avevo fatto un viaggio ad agosto ci avevo fatto un viaggio ad agosto e ho visto comunque che la povertà c'era e tutto e allora ho detto fammi guardare un po' fammi cercare se c'è la possibilità lo faccio l'anno prossimo infatti sono riuscita a farlo grande Meli perché io uso il viaggio anche per quello se riesco poi ci torno e se riesco a dare la mano per venga abbiamo visto che hai fatto anche da sponsor a una società di basket se non sbaglio per soldi Varese sì Varese raccontaci un po' come è nato il progetto allora il progetto è nato con io che mi è venuta voglia mi è tornata la voglia di imparare il linguaggio dei segni dei segni dei segni non dei segni ho capito il linguaggio dei segni scusa sono in baria io mi dissocio gli puoi gentilmente dagli del coglione con il linguaggio dei segni ma a chi non è mai piaciuto il linguaggio dei segni le parolacce non me le hanno insegnate non lo volo non mi interessavano allora cerco su google mi esce sto ragazzo che guarda a caso io su google ho cercato era un mio follower ed era di Varese allora l'ho contattato abbiamo fatto un paio di lezioni ci siamo trovati bene però era una cosa privata mia che non c'entrava niente non sapevo neanche che lui avesse l'associazione non sapevo niente dopo un po' di lezioni così vengo a sapere che comunque cercavano sponsor io che comunque di questa cosa sono più che interessata perché nel mio villaggio dove sono nata io in Romania c'era questa famiglia che aveva un sacco di bambini e siccome loro non erano molto in forma se dove si bevevano i bambini sono usciti comunque con qualche problema e mi ricordo che all'elementare anzi all'asilo quando andavo c'era questo bambino che non comunicava con nessuno perché non riusciva nessuno parlava il linguaggio dei segni io volevo a me piace un sacco parlare tutte le lingue possibili e quindi mi è rimasto questa cosa di voler imparare il linguaggio dei segni anche se cambia per ogni paese cioè se lo imparo qua non è che vale per tutto il mondo no anche io lo pensavo io ti faccio i complimenti perché ho due cugini sordi lui lo sa e quindi è una cosa molto bella quella che fai e mio cugino che è un suo fan è un tuo fan preferirebbe il linguaggio dei segni a quello dei segni allora appena sono capace farò le live lo saluto visto che non lo saluto mai ne approfitto ciao Danilo ciao Danilo farò le live anche così infatti per quello mi sono fermata un attimo su Twitch per portare qualcosa di nuovo ah anche quindi sei sempre sempre in movimento sempre a fare qualcosa ogni volta che ne finisci una ne vuoi imparare già un'altra esatto stai imparando il francese e l'inglese ah caspita vedi l'inglese serve l'inglese serve eh sì l'inglese è importante il francese perché parlano anche in Togo tutta una maggior parte dell'Africa di recente abbiamo visto che invece sei comparsa in un videoclip di Fabri Fibra oh sì il mio idolo il tuo idolo caspita allora che bello sai ma no non lo sapeva lui neanche della mia esistenza credo come non lo sapeva perché io quando sono arrivata se tu Fabri Fibra veramente non conoscevi Medijoy e le sue ciliegine allora quando arrivai in Italia avevo 12 anni e la prima canzone che sentì in radio era Bugiardo ok io non capivo le parole neanche quello che dicessero però mi piaceva la voce quindi mi è rimasto impresso e da lì sono diventata subito una sua fan però non mi sono mai immaginata neanche che potevo vederlo anche a distanza di 500 metri invece quando poi mi hanno chiamato per il video e ho assistito anche mentre lui registrava io ho detto vabbè adesso prendo i coglioni in mano e vado a presentarmi lì così arrivo poi torno indietro non ce la facevo allora prendo prendo qualcuno che c'era e diceva scusa non è che potresti chiedergli se posso dirgli qualcosa non volevo disturbare o importunarlo mentre lavorava lui veramente non ti conosceva noi intanto stiamo vedendo le immagini non lo so non lo so allora quando ha finito mi hanno portato con calma perché mi sembrava brutto andare io lì così a dirlo scusami e mi sono presentata lui e carinissimo dolcissimo gentilissimo cioè proprio proprio come te l'aspettavi sì bravo proprio come l'aspettavo che bello hai visto quindi anche i nostri miti i nostri rapper preferiti quindi è stato un piacere è stato veramente bello anche perché hanno lavorato come piace a me cioè la prima è buona come viene viene nel senso devi essere te stessa non devi recitare non devi fare come piace a me e io non riesco a recitare a fare cioè o sono spontanea oppure lascia stare come facciamo noi noi non prepariamo mai niente i tiktok i miei video buona la prima se la prima non è buona o non lo carico lo carico lo stesso brava è quello che ti ha anche aiutato è forse anche quello sì 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 che bella cosa hai visto che brava la nostra Medi che è sempre gentilista che viene sempre quando la chiamiamo noi di Hot Pot è una grande persona la Medi siamo arrivati quasi alla fine quindi non ti possiamo non chiedere aspetta Gesù ho paura ho una notizia settimana scorsa c'è stata le fissi dall'altra parte del mondo davvero? sì stanno accusando che sia stato il seno di Medi Joe può essere ero dall'altra parte del mondo quindi magari può essere no vedi perché mi ha fatta così a cazzo di cane l'intervista non serve? continua con la cagata che volevo dire io non preparo niente lui che prepara queste cose allora visto che comunque sei un only fan content creator famosissima ma parliamo un po' di gossip vai mi piace sei fidanzata oggi single mi hanno spezzato il cuore ti hanno spezzato il cuore e qual è l'uomo ideale di Medi? per non dire col cappellino con la pancetta perché ogni volta sempre io sono all'altra volta l'avevo detto pelato sì l'avevi detto pelato sì perché lui era contentissimo mi ricordo quando l'ho detto sono fatto un salto alto così quando l'ho detto quindi ti piacciono i pelati ma hai fatto mettere il cappello infatti ti ricordo benissimo ecco perché lui ti ha fatto mettere il cappello l'altra volta mi hai detto Jason col cappellino eri un'altra persona mi sono messo il cappello ho detto stai a vedere che non gli piace senza il cappello allora diciamo che non ho cioè non ho una preferenza biondo, moro, occhiazzurri alto, basso quello non c'è basta che sia una persona umile rispettosa e che non sia uno di quelli che saltano la fila perché gli odio quelle persone che saltano la fila io sono sempre dietro devi rimanere in fila quindi sì io sono uno paziente mi piace stare e partire da in fondo questa è la cagata più grossa che ho fatto vincere oggi va bene allora Medi noi ti ringraziamo di essere stata con noi io vi ringrazio sei sempre gentilissimo noi ti vogliamo bene sempre un piacere ogni volta ti bacio in diretta non lo facciamo mai con nessuno però te lo meriti perché sei un amico c'è sua moglie che lo sta guardando vuoi salutare posso dire che è bravo? bravo chi? lui sì lui sì è bravo ma non perché è bravo perché dopo fuori onda verrà a baciarti perché adesso siamo in diretta tanto glielo dico a tua moglie quando verrà a tastare per vedere se sono vera glielo dico quindi stai attento allora Medi vuoi salutare qualcuno? saluto la mia piccola nipotina nata adesso sei mesi Victoria ciao more della zia salutiamo anche noi come si chiama? Victoria Victoria che bel nome come Victoria Secrets sì tipo l'abbiamo presa dalla bisnonna come nome che è ancora viva infatti ho visto una foto sui ah era lei tre giorni fa la mia bisnonnina sì e salutiamo anche la bisnonna di Medi ciao Nolina allora noi vi salutiamo noi di Hotpot vi salutiamo torniamo settimana prossima dalle 23 qui su Rete 55 canale 88 del Digitale Terrestre seguite Medi Joe sui suoi canali social ricordatevi che mi ha detto che mi dà il profilo il fan gratis risparmi 35 euro aspetta amore devi dire sì no devi dire no così lo prendo in giro poi che lui non sarà no no devi dire sì torniamo settimana prossima ciao 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 ciao